La vittoria fa morale, spirito, dalle condizioni e partiamo da questo mattoncino e vediamo di intraprendere un cammino positivo. E già è proprio una vittoria scaccia fantasmi che ci voleva, un successo che fa morale e soprattutto classifica perché anche navigare in acqua è un po' meno mosse aiuta. Ovviamente tutto assumerà valore se questo trend avrà un seguito. Io sapevo che la Lucchese non era da sfruttare, nonostante i problemi, tutti chi era e la presidenza. E la vittoria è importante, comunque crea come tutti gli stavolano di loro, ci dà fiducia comunque di guardare in avanti e tutta la vittoria è normale. Cioè se saprò avere un grande rispetto prima da partire la Lucchese e non ha accettato. E ora rivediamoci gol, il primo un po' fortunoso, il secondo firmato dal capitano, a sottolineare che questa era una domenica totalmente arancione. Grazie a tutti.